allora zio il concept è questo custodia, anteriore, stondata, angolo, stondatura volto disegnato da te, sopra, posteriore ma le consiglio io vedo stesso fonte, stesso carattere presente nel video apri folder per moneta da 100 euro ok più cd che sta qua dentro ok con questa strisciolina che appunto richiama il io vedo fighissima che poi viene strappata e riattaccata qua questo è il concept numero 1 il concept numero 2 in realtà non prevede la presenza della moneta però te lo faccio vedere ugualmente perché mi sembra comunque molto interessante e per finire, vabbè, dietro i credits e le cose varie grazie a tutti grazie a tutti